Una docufiction storica, la battaglia di Roma 1848. La battaglia di Roma 1848. Portatelo subito in infermeria. E questa è più o meno la storia della mia vita, ma direi della mia passione per il cinema fantastico. La battaglia di Roma 1848. La battaglia di Roma 1848. La battaglia di Roma 1848. Grazie.